Fuoristrada e solidarietà a Montesilvano. L'associazione ASD ha donato delle carrozzine job per i diversamente abili per il mare al comune di Montesilvano. In più domani e dopodomani due competizioni su sabbia di fuoristrada con la possibilità per i disabili di provarli a fianco a piloti esperti. Il ricavato sarà devoluto all'ACBE. Sandro Carota, presidente ASD. Claudio Ferrante, carrozzine determinate. Alessandro Pompei, assessore comunale di Montesilvano. La manifestazione si svolgerà a lungo via Aldomoro, completamente su sabbia. Ci saranno dei fuoristrada che gireranno su un tracciato che faremo noi. In più avremo un secondo tracciato che portiamo sia i bambini e i genitori dell'ACBE e sia tutti quelli di Claudio Ferrante che vorranno farsi un giro e provare un'emozione andando sul nostro fuoristrada. Volevo ringraziare innanzitutto l'associazione Fuoristrada Abruzzo, diretta da Sandro Carota. Loro cosa hanno fatto? Ci saranno queste due giorni di manifestazioni con i fuoristrada sulla sabbia al nostro mare, a Montesilvano. E loro hanno voluto proprio fare una cosa meravigliosa, donare ausili importanti all'associazione Carrozzine Determinate. E noi abbiamo donato queste carrozzine al comune di Montesilvano. Sono carrozzine importantissime, sono tre carrozzine, un sollevatore e verranno proprio utilizzate per il mare senza barriere. Sì, è un'occasione molto lieta questa di oggi perché andiamo a donire, come si suol dire, l'utile e il dilettevole. Nel senso che stiamo presentando una manifestazione sportiva di rilevanza nazionale perché è inserita all'interno del circuito della Federazione Italiana Fuoristrada e occuperà per due giorni la spiaggia libera di Montesilvano, zona grandi alberghi. Oltre a questa bellissima manifestazione che sarà spettacolare dal punto di vista sportivo e anche molto importante per quello che riguarda le presenze che registreremo sul territorio, è altrettanto meraviglioso poter presentare anche l'aspetto sociale. Grazie. 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 Grazie.